La quarta edizione del Covadis Italia credo abbia confermato in maniera chiara i trend in corso sul mercato immobiliare internazionale e nello specifico italiano. Grandissima attenzione da parte degli investitori stranieri al nostro mercato, con un focus particolare sulla città di Milano che è ritenuta sicuramente il posto dove venire ad investire in questo momento nel nostro paese. Interessante anche notare come questa importante affluenza di capitale straniero stia portando un problema di prodotto, scarsità di prodotto rilevata da moltissimi, che però fa partire un ciclo ulteriormente positivo, vale a dire quello dello sviluppo e delle operazioni cosiddette a valore aggiunto. Investitori che fino a qualche anno fa non avrebbero probabilmente messo un euro sul prodotto core italiano, oggi guardano all'Italia come un mercato in cui sviluppare nuovi prodotti e questo è sicuramente interessante e lascia ben sperare per il futuro. Anche se molti hanno evidenziato come il mercato sia purtroppo in ogni caso piccolo e come altre città, altre aree al di fuori di Milano siano comunque considerate meno interessanti salvo che per specifiche asset class. È stato anche interessante ascoltare molti dei player del mercato evidenziare che c'è comunque un rischio politico, c'è comunque un rischio paese sull'Italia che rimane del quale non ci dobbiamo dimenticare.